Qual è stato l'atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche per la tua scelta? Io ho dovuto rinviare di 5 anni la scelta di andare in fabbrica per non essere bruciato nella diocese di cui faccio parte, che è una diocese nella quale il potere dell'istituzione è forte. Quando sono poi riuscito ad andarci sono andato anche con la benedizione del mio cardinale che in realtà pensava di lasciarmi andare ed era finita lì. Invece sono riuscito a mettermi con altri preti operai insieme e per cui praticamente siamo riusciti a farci riconoscere addirittura come comunità di preti operai dentro la diocese.